Ciao a tutti persone, vi volevo parlare di Roblox, visto che tante persone sui social si stanno lamentando che hanno perso l'account Perché hanno perso l'account? Perché non hanno messo il proprio numero di cellulare e la propria email Io dico a tutti che per non perdere più l'account dovete mettere l'email e il numero di cellulare e verificarlo Così non lo perdete, ma non è solo su Roblox questa cosa qui del numero di telefono e email Ora l'hanno inserito in tutti i giochi di tutto il mondo e in tutti i social di tutto il mondo Quando andate a creare un social o andate a creare un'email o andate a creare un gioco Entrate in un gioco, lo scaricate e entrate in un gioco Chiede il numero di telefono e l'email per verificarlo Oppure ti dice di non fare nulla e giocare Se voi non fate nulla e giocate e comprate skin, comprate tutto Dopo il gioco, quando voi uscite oppure il gioco lo disinstallate e lo rimettete Non è che l'account lo ritrovate Perché se voi non avete messo l'email e il numero di telefono E non l'avete confermato, non l'avete verificato Lo perdete l'account Perciò chiederete aiuto alla propria assistenza del gioco, giusto? O al proprio azienda del gioco Scrivete un'email e loro non vi risponderanno Oppure vi diranno che non possono aiutarvi Io dico una cosa, se vi dicono questa cosa andate a denunciare Perché loro vi possano aiutare Se tipo voi mettete l'email e verificate tutto Loro vi devono aiutare Perché ormai l'email ce l'avete, l'account ce l'avete Lo vedono che siete voi e vi devono aiutare Ovviamente io vi dico di mettere tutto reale Ovviamente perché se mettete cose non vere Non possono aiutarvi Se mettete reale possono aiutarvi In tutti i social Comunque questa cosa qui È sia dei giochi E sia dei social Io dico a tutti In tutti i giochi Di tutto il mondo E in tutti i social di tutto il mondo Io vi dico che dovete mettere Sia il numero di telefono E sia l'email Sia numero di telefono e email E dovete verificarlo Lo verificate Lo confermate E l'account sarà A posto Così non perdete più nessun gioco E nessun social Io ve l'ho voluto dire Perché tante persone stanno dicendo Che hanno perso il proprio account Di Roblox O di altri giochi O di altri social Dei propri figli E io ve l'ho voluto dire Che dovete confermarlo E verificarlo E verificarlo La propria email E il proprio numero di telefono Così siete a sicuro E non perdete più nulla Mi raccomando Nei giochi In tutti i giochi Di tutto il mondo E in tutti i social Di tutto il mondo Ovunque Mi raccomando Mettete sempre Il numero di telefono E l'email Così Non Lo perdete più E dovete verificare Sia l'email E sia il numero di telefono Così Non lo perdete più E mi raccomando Mettete sempre Le sicurezze Al proprio account Poi Comunque Ho letto Ho letto Che su Roblox Si blocca Il gioco E tante cose Comunque Dovranno fare Aggiornamenti nuovi Per tutti i dispositivi E Spero che tutto Sarà Sistemato In tutti i giochi Sia su Roblox In tutti i giochi Ovunque E anche nei social Dovranno sistemarli Spero che un giorno Sistemeranno tutto Comunque Vi metterò Un video In descrizione Dove Ho fatto un video Sopra A un commento Di una persona Che ha commentato Che il suo figlio Ha perso l'account Ho fatto un video Qui sotto Mi raccomando Andate in descrizione E andate a vedere il video Ciao a tutti i fan E vi voglio bene A tutti i fan E persone Ciao